Buon pomeriggio e bentornati nella mia cucina. Oggi mi presento col farfallino, carino vero? L'ho acquistato a Tormina, la bellissima cittadina siciliana. Vi voglio presentare la mia ultima torta che ho preparato, giusto per darvi un'idea. Se siete curiosi, allora io, benigadigonto! Ho diviso gli albumi dei tour, li guardate, li ho montati a neve, capovolgendo, vedete, capovolgendo completamente la ciotola, rimangano attaccati, quindi significa che sono proprio montati alla perfezione. Ora passo a frullare prima i tuorli. Frullate sui tuorli, ora aggiungo lo zucchero. Ai 6 tuorli aggiungo 175 grammi di zucchero. Ora grattugio la scorza del limone. Un po' per volta aggiungo 150 grammi di farina e 100 grammi di fecola di patate. Un cucchiaio di sambuca che le conferisce buon gusto. Infine due gocce di essenza d'arancia. Infine un po' per volta aggiungo l'albume con un mestolo. Ho messo un foglio di carta forno, l'ho messo nel fondo della tortiera, questa forma di cuore, e non metterò nulla nei lati, in modo che tiri e rimanga dritta la torta a una volta cotta. Forno a 150 gradi per circa un'ora. La tortina è pronta, ora rifilo i bordi. La cremina a 3 uova e 60 grammi di zucchero. La scorza grattugiata di un'arancia, queste due o tre, le ho trovate nell'albero di mio babbo, quindi sono molto asciutte, ma la buccia è ancora fragrante. 5 gocce di olio essenziale di arancia, qui è stato in Sicilia, 250 grammi di mascarpone e due grosse cucchiaiate di panna montata. Per la bagna, succo d'arancia. Questo è come il soffice. Adesso passo a bagnare bene bene la base. Ho versato la crema in un sacco da pasticcere, adesso dovrà farcire. Eccola qui, ho messo la crema, ho aperto, ho bagnato di nuovo, e ora passerò a sistemare la panna. Con gli avanzi della crema e della panna ho preparato una gustosissima coppa di frutta. La crema l'ho messa nel fondo, poi ho aggiunto le pesche tagliate a pezzetti e ho coperto con una panna montata, così mangeremo della frutta sfiziosa, ogni tanto ci sta.